Ma che posto è questo, mo? Oh, ma dov'è questo caso? Nell'ultimo posto sicuro rimasto in Italia. Buona sera, Cortina! Buon anno! Ecco il vostro rosè in frebo, contesse. Mi si accorgono che non ti chiami interinero o ferro. Cioè, mandano tutti a gamba all'aria. Ah, dico, stanno in giro come un vigno transessuale. Ti spezzo in due. I romani stanno già pagando per quello che ci hanno fatto. Perché voi romani siete il passato, come i dinosauri, i pantaloni a zampa. Come si chiama quella cosa lì? Democrazia. Tu sei Carlo Marza, l'ultimo dei comunisti. Da oggi, il lunedì, si chiamerà Domenica Bis. Ho visto cose che voi giovani spermatozoi neanche potete immaginare. Romantico, no? La cifra. Neanch'io sarei in grado di salvare l'Italia, eh? Romolo Giulie, la nuova stagione da lunedì 16 settembre su Fox. Crainaria, la nuova stagione da lunedì 16 settembre su 5 settembre su 5 settembre su 8 settembre su 5 settembre su 5 settembre su 5 settembre su 5 settembre.